Diversi lavori di miglioramento delle strade intrapresi dalla provincia dell'Aquila per quanto di loro competenza in vista del passaggio del Giro d'Italia. Conclusi innanzitutto i lavori in due lotti sulla statale della Valle dell'Iri che collega San Vincenzo Valle Roveto e Balsorano, strada nella quale è previsto il passaggio del Giro il prossimo 12 maggio nel corso della tappa Avezzano-Napoli. Costo delle operazioni 1.200.000 euro, un intervento che era comunque in programma da tempo e che testimonia l'attenzione degli amministratori provinciali rispetto al territorio. Traguardo raggiunto, ultimati lavori in tempo utile per consentire il passaggio al Giro d'Italia. La SR82 è tornata a nuovo, abbiamo ripristinato la frana, abbiamo sostituito molti punti ammalorati del manto stradale, è ripristinata la segnalera e quindi tutto proprio questo grande evento che interesserà la Marsica. Ribadiamo, è un intervento in vista del Giro d'Italia ma in vero già programmato e attenzionato alla provincia dell'Aquila e continueremo a portare avanti l'impegno assunto con tutti i sindaci del territorio perché quella rotabile a 1982 abbia la dignità e la sicurezza che merita anche per il territorio bello e panoramico che attraversa. Altro importante intervento ha riguardato la strada di Leonessa per un importo di 1.500.000 euro nel tratto che ricade nel comune di Montereale. Anche questo intervento era in programma da tempo ed è stato concluso prima del passaggio dell'ottava tappa del Giro con partenza da Spoleto e arrivo e Pratiditivo. Un'importante opera che riguarda una strada dell'Alto Aterno nell'area aquilana, oltre un milione e mezzo di investimenti. Sono fondi destinati anche al passaggio del Giro d'Italia ma è un'occasione chiaramente perché una strada poi è al servizio per sempre dell'intero comprensorio, quindi la zona di Montereale e dell'Alto Aterno finalmente vede una risposta davvero importante.